Grave lutto nel mondo del cinema, è morto infatti Michael Newman, se ne va a soli 68 anni di età, attore molto noto al grande pubblico perché recitò in Baywatch la serie. Così veniva chiamato Mike, così veniva chiamato, è morto per complicanze a livello cardiaco del cuore, era il 20 ottobre di 2024, l'altro ieri. Per fortuna non è morto da solo ma circondato agli affetti più cari. Da tempo purtroppo stava combattendo con dei gravi problemi di salute, gli fu diagnosticato nel 2006 il morbo di Parkinson, è stato l'unico bagnino a essere apparso diciamo così anche nella vita reale nel cast di Baywatch in cui vi ricordo protagonista è Mitch Dukenon. Ok, era veramente un grande uomo, era originario di Los Angeles, fu pompiere a tempo pieno durante proprio le riprese di Baywatch, un ruolo che riuscì a mantenere dopo la conclusione dello show nel 2001. Era nato a Los Angeles, si pietro, diventò molto popolare negli anni 90 il bagnino Mike Newman in Baywatch dove interpretava se stesso. 150 in totale gli episodi in cui apparve grande grande uomo. Posso soltanto dire a Michael Newman che tu possa riposare in pace a me. Perciò che tu possa riposare in pace a me.